Quando è arrivata a Roma dalla Slovacchia non sapeva una parola di italiano. Da allora ha interpretato molti film tra cinema e tv. È un'attrice dalla forte personalità. Ben arrivata Barbara Bobulova. Grazie, sono contenta di essere qui con voi. Ha visto come ho pronunciato la O e non l'ha, anche se so che lei ha fatto un enorme sforzo perché io so che non è facile dire Barbara perché ho tantissime persone, tantissimi amici che ancora oggi si devono concentrare per dirla bene. Tra l'altro la ringrazio anche perché lei è leggermente raffreddata e ciò nonostante è venuta e quindi due volte grazie. So che ha chiesto da poco o da molto, ce lo dirà la cittadinanza italiana, siccome molti stranieri che hanno diritto ad essere italiani, faticano ad acquisire la cittadinanza. A lei com'è andata questa domanda? Io ho chiesto, ho fatto la domanda tre anni fa, però il percorso è lungo perché so che ci sono via burocratica, è molto lunga insomma, per cui mi hanno detto che più o meno quattro anni ci vogliono, per cui io non vedo l'ora di acquisirla perché ho sempre paura che magari faccio qualcosa di sbagliato, passo sul rosso, che non mi accorgo e non me la daranno più. Per cui datemi una prima possibile, anche se non passo col rosso, passo sempre col verde. Quattro anni significa poi che lei è in Italia da almeno 15 anni, perché ci vogliono dieci per ottenere il diritto a fare la domanda, giusto? Le confesso che io effettivamente avrei potuto chiederla prima, ma non ci avevo mai pensato perché con l'Unione Europea effettivamente a me non mi cambiava più di tanto, solo che confesso che nell'ultimo periodo l'andamento dell'Unione Europea un po' comincia anche a preoccuparmi per il futuro, cioè sono un po' scettica e non so quanto durerà insomma questa Unione Europea e quindi siccome miei figli hanno la cittadinanza italiana, io sono slovacca, vorrei avere la stessa. All'inizio della sua attività c'è l'Accademia d'Arte Drammatica a Bratislava, vorrei che lei in poche parole spiegasse qual è la differenza tra recitare nella sua lingua madre e recitare in italiano. Io ho recitato ormai anche in inglese, in italiano, per cui devo dire che mi sono un po' abituata. È un po' un piccolo handicap perché uno non può mai lasciarsi andare completamente, soprattutto primi anni per me era come se avessi una lucetta sempre di controllo accesa per controllare l'addizione, per controllare quella parte che in lingua madre non serve controllarla, per cui diciamo è un po' più difficile recitare la lingua che non è. Esordio a 12 anni nello schermo di Bratislava, la bambina Populova che cosa faceva? Ma io ho iniziato abbastanza presto, a 12 anni, a recitare, quindi la macchina da presa l'ho conosciuta da piccola e però per me era un po' un gioco, non era ancora fare l'attrice, anche perché da noi e fare l'attore all'epoca era un mestiere un po' come fare il medico, cioè se qualcuno diceva io sono l'attore è come se dicesse io faccio il medico. Invece in Italia non è così? Non credo, ma ormai neanche lì mi sa che non è così. I tempi sono cambiati e tutto molto cambiato e quindi all'epoca si davano le medaglie agli attori, oggi no. Perché a un certo momento decide di venire proprio in Italia e che cosa la colpì, la cosa che le rimase più impressa allora? Ma io devo dire non sono venuta spontaneamente perché sono venuti gli italiani nel mio paese a cercare un'attrice slava per un film italiano, quindi mi hanno portato a Roma per la prima volta a girare e così piano piano ho scoperto questo paese che devo dire mi faceva anche un po' non sono poi così coraggiosa, non sono rimasta subito effettivamente, sono tornata nel mio paese a finire gli studi, dopodiché di nuovo gli italiani sono venuti a cercarmi e propormi un altro lavoro e a quel punto ho detto probabilmente devo andarci. Nelle interviste lei rivendica sempre la sua indipendenza, però ho letto che ha paura del buio, non riesco a dormire senza un po' di luce nella stanza, è ancora così o ha superato il trauma nel frattempo? No, devo dire che il buio completo mi fa sempre un po' paura, anche la notte, comunque preferisco luce del giorno, il problema è che adesso ho due figlie che anche loro ogni tanto si svegliano di notte e dicono mamma paura del buio, ho detto no, oddio. Ha dato l'esempio? Sì, probabilmente. Noi abbiamo trovato un momento buio o forse no di un film recente, 2005, Otspetech, Cuore Sacro, lei fa una parte molto intensa, vediamola insieme. La storia La storia La storia Era una spogliazione quasi francescana, nel senso che lei rappresentava una donna ricca e cinica che a un certo momento attraverso una bambina che conosce conosce anche il fenomeno il problema della povertà estrema e cambia ha quasi una conversione mistica ma sono cose che avvengono solo nelle favole e al cinema o anche nella realtà? No, io spero penso che avvengano anche nella realtà devo dire che mi ha anche emozionato a rivedere questa scena perché credo che questo film dietro ha avuto una storia incredibile e questo personaggio di Irene io quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura ero proprio convinta di poter fare quel film me la sono proprio sentita cucita addosso penso che anche Ferza l'ho convinta proprio con questo perché il ruolo e il film la storia era molto forte e io credo che succeda anche nella vita tra l'altro lei con quel film vinse il nastro d'argento e mi fa piacere quello che ha appena detto perché di solito quando lei si rivede non si piace mai ho letto è così che cosa si contesta in particolare? vedo sempre tutti i miei difetti diciamo raramente sono contenta della mia interpretazione perché penso sempre di poter fare meglio ecco di quello che ho fatto ma questo è un po' un mio difetto sono una perfezionista per cui è così però mi sono abituata a guardarmi adesso si accetta di più? sì forse perché adesso sono anche una madre per cui dico vabbè tanto è solo un film la prendo con uno spirito un po' più sportivo anche nel Principe di Homburg 1997 di Marco Bellocchio lei ha un ruolo drammatico fra l'altro i critici dell'epoca scrissero l'incantevole Bobulova ma lei predilige ruoli drammatici o ruoli più leggeri da commedia? no io penso che ho avuto un periodo in cui non ero in grado di affrontare i personaggi comici o diciamo leggeri perché per essere all'interno di una commedia penso che uno deve essere padrone della lingua la commedia non si può fare se non non sei padrone della lingua e quindi insomma la mia vita artistica penso che è andata sempre mano a mano con quella privata e avevo un periodo in cui mi si cioè mi si offrivano più personaggi drammatici ma perché anche il mio stato d'animo credo che che era un po' così adesso invece ultimamente mi sono capitate anche le commedie e perché è un periodo più felice? no non è quello è più che altro la commedia ti fa un po' fuggi dalla realtà invece no hai bisogno di alleggerire di è un po' una una fuga dal non mi sento più felice ma mi sento magari invece più più dentro la maternità più dentro con le figlie invece direi abbastanza non è facile per cui la commedia mi ha permesso invece di di fuggire dalla quotidianità e di avere un'altra dimensione certo sì